Poi si va all'anno nuovo dove anche quest'anno presenterò il campionato mondiale di pizza senza frontiere stavolta a Rimini sei invitata, c'è anche Bonci che salutiamo e un sacco di campioni della pizza e della panificazione Che tripudio proprio L'anno scorso è stato stupendo, quest'anno sarà ancora meglio perché sono tre giorni invece di due Mi faccio tutti e tre Paolo, vengo lì, mi faccio una tendina, sto lì con voi Ci sono un sacco di gare, la pizza dessert addirittura, il mystery box Poi penso che ogni anno ci sono un sacco di novità Sì perché poi gli organizzatori sono eccezionali e Ristorazione Italiana Magazine Hanno fatto loro tutte le più grandi gare dagli anni 80 ad oggi per cui sono veramente strepitosi